Di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Giornata ricca di indicatori economici che confermano la ripartenza dell'Italia. A luglio volano gli ordini all'industria su base annua con un più 10,4%, che è frutto di un aumento mensilio degli ordini interni del 3,1% e di un calo di quelli esteri per un 2,9%. Ciò significa forse per la prima volta che la domanda interna sta davvero recuperando terreno e questo è molto importante. Il dato, come accade da molti mesi, è trainato dalla performance brillante del settore auto, con un aumento degli ordini per il 63%, addirittura su base annua. Sempre a luglio sono aumentate anche le vendite al dettaglio, con un saldo mensile dello 0,4%, che significa un aumento dell'1,7% su base annua. Per la prima volta questo indicatore ci segnala un aumento negli acquisti dei cosiddetti beni di consumo, a cominciare dai prodotti alimentari, oltre a confermare il salto di quelli durievoli che è già iniziato da qualche mese. Anche questo corrobora la tesi di una domanda interna in fase di ripartenza. D'altro canto è fondamentale che l'Italia possa d'ora in poi contare sulla fiducia del mercato interno, anche perché l'export, che ha fatto sopravvivere la nostra economia durante tutto il tempo della crisi, sta cedendo un po' terreno. Il dato diffuso oggi è quello relativo ad agosto, che è comunque un mese poco significativo, ma segnala che l'interscambio con i paesi extra-UE è calato dell'8% rispetto al mese di luglio. Pesa soprattutto il rallentamento cinese. Infine, un ultimo dato che conferma il cambio delle aspettative. Da aprile a giugno di quest'anno, si è registrato un incremento del 6,8% nelle compravendite immobiliari. Lo ha annunciato all'osservatorio dell'Agenzia delle Entrate. Se riparte il mercato della casa, l'Italia davvero può dire di aver voltato pagina.